Ok, da adesso ragazzi, il timer che dovete considerare è quello piccolino, perché è il tempo reale dentro al gioco. Tant'è visto che starterò il timer e quando si sta già caricando il mondo, ok? Perché poi prende da quando sponiamo a quando chiudiamo in pratica, ok? Lava. Ok. Me la faccio vecchia scuola, mi sa. Non rompe, bravissimo. Eee, dipende. Tu non hai visto un villaggio, vero? Mi sa di no. Ok, allora, vecchia scuola, piccone adesso e scendi giù. Fammi intravedere meglio, perché forse chiedi di qua. No, non vedo niente. Ok, vai, piccone e scendi. Gio. Uuuuh. X-Ray. Sono due pezzi, no, ok. X-Ray. Sono, dimmi che sono sei. Bella lì. Allora, fatti già il portale, me. Già prendi, lo prendi dopo il legno, così almeno metti la cosa a carburare. Non questo, no. No, 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 questo, questo vale per quattro come quello, vedi? Ah, sei sicuro? 100-100, bro. Ok, allora va bene, allora va bene. Allora, Eme, prima di andare nel nether, però, prendi ancora altra legna che ti serviranno per i letti. Sì, 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 sì. Ok, si è acceso, mi sa. Sì, sì, si è acceso. Prendita, questa lava... Attenta. Ok, vai. Non male, però, cinque minuti in meno rispetto al tuo PB. Eh. Ehi, si fortezza. Ciurma, prima di continuare con il video, vi ricordo che in descrizione trovate il link di G2H e uno store di giochi a presi scontatissimi. Mi raccomando, dateci come sempre un'occhiata. Allora, tu sai che è un bastione. E hai visto anche lì davanti un mezzo portale che ti potrebbe tornare utile per la natura. Allora. Un bel giro, bello veloce, tanto lo veri con le altre. Eccolo, ok. Per di là. Ora. Ok. Ok, è là. Quindi è positivo... Ok. Quindi sì, è positivo o positivo, eh? Ok. Attento che tanto cinghiali, quindi in caso ti alzi di tre. Aspetta che... Non è un problema, e ce lo fai. Mamma mia, che bella. Vai, via. Subito al bastione, è qui. Bastione, visto? L'hai vista, eh? È lì davanti a te. È nella nebbia, io l'ho visto. Fidati. Oddio, qua c'è sempre timore di saltare nella lava. Ah, che lo vedo. Tu conta che hai già quattro di ossidiana, eh? Che tanta roba. Un po' di gold bridge, se vuoi. No, no, no. Voglio impararlo prima. Non mi va di fare la fine di un certo pirla, che prova a fare il gold bridge e poi cade davanti al bastione. E va bene, succede. L'hai capito? Non dove devi andare. Sì. Ok. Lì alla tua destra. Bravissima. Bravo, bro! Apre la cazzo. Prendi l'ossidiana. Chiudi, chiudi. Ok, tutto dritto. Da dove stai continuando? Qua. Aspetta, il blocco dov'è che si scava a sinistra? Nello stable, allora? Nello stable, sì, sì. Ora, tappati in alto. Tappati a me. Ok, qui adesso tutti i blocchi, te. Sono circa 10-11. Ok, sì, 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 ok, ok. Eh, no, ho confuso la cosa. Nello stable. Sì, 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 sì. Sì, sì. E me, guarda, rompi questi due blocchi, questi qui che hai davanti. Ok, perché te ne mancano altri due o tre di blocchi, eh. Eccolo. E forse ce n'è anche uno tutto dietro. Qua. Qui, esatto. No, sopra. Ok, non c'è, vai. Ora, li fai diventare tutti oro e sali. Vai. Sempre oro in mano, eh. Io ora qua. Bravissimo. Salgo ancora. A destra, sì. Salia. Block, dai, 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 butta i blocchi, butta i blocchi. Ok. Ora, fai così, eh, me. Sì. Fai il buco qui, fai il buco qui. Il buco anche 4x4, eh. Tu butta l'oro, butta l'oro. Loro ci vanno tanto, ci vanno. Devi solo tappare lì, eh. Ora, vabbè, fatti una crafting. Ce l'ho già, eh. Ok, e fatti un piccone in oro. Questo lo butta, io lo al tipo, così, ok. Fatti un piccone in oro, che ti servirà per quando scenderà la stronghold. Ora, le metti io da parte, toglierlo da lì. Ok, quindi questo io dopo tutto, su cui lo mettiamo qua. Anzi, lo schiaffo qua. Ok, altra lana. Tanto almeno non mi fanno più nulla, praticamente. Ok, hai i tuoi 6 letti. Ok. Ora, ti mancano solo le perle e sei fuori. Fine. Sì, spero che siano dentro, c'ho pure un bordello di cose. Ok, vado a guardare dentro, vado a guardare dentro. Mi sa che hanno finito con gli scambi, eh. Non ci sono perle. Fuck! Ah, rip! Prenditi tutte le fireless, prenditi tutte le fireless. Ok, sali, sali. Perché qui ci saranno altre. Ah, oh! What? Vabbè, baciato al signore. F3? Ok. Negativo di Z. Allora, io sinceramente la... Vabbè che c'ho tutti i letti, quindi la glowstone non mi serve più neanche. Niente. Eh, niente. Perché io la volevo tenere la glowstone, non si sa mai mi dovesse servire la... Per fare l'ancora. No, non ti serve più niente adesso. Adesso devi solo fare negativo di Z. L'unica un po', diciamo, cosa brutta è che hai poche perle. Già. Teoricamente me la immagino qui la fortezza, proprio in sto buco che è davanti qua. Eh, anch'io me la immagino qua. Cioè, perfetto sto buco, dai. Fossi una fortezza ci entrerei, cioè mi ci metterei. Ok, la fortezza non c'è. No. Premi F3. Ah, sì, sì, è là, è là. Ok, faccio. Easy, 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 easy game. Easy game, mi sembrava strano. Quindi bro, esci dal nether. Non prendere tanto danno, hai tutti i letti che ti servono, hai l'ossidiana per uscire, hai tutta la resistenza al fuoco per i blazer. Adesso devi stare tranquillo e hai il video per YouTube, ok? Va bene. Non hai preso la blazer, quindi svuotati... Svuotati subito l'inventario perché potrebbero bruciare da un momento all'altro. Ok. 4 drop! Si è bruciata? No. E dammi sta blazer, ho detto me l'ha dato. La vuoi prendere? Eh sì, faccio 14. Ok, MFF3? Ok, no, 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 dei portati. X, allora, appena ammazzisci i blazer, rompiti il portale, ok? Ah, il portale? Rompi lo spawner. Ok. Usa tutta l'ossidiana, tanto ne hai troppa, bravissimo, vai, 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 vai. Fatti tutti gli angoli, proprio... Bravissimo. Let's go. Bravo, hai buttato... Meno male, non le hai buttate le palle? Ma me l'ha acceso il ghast. No, l'ha acceso te. No, me l'ha acceso il ghast! Ok, ora ti trovi l'occhio lancialo sopra la montagna. Perché sennò rischi che entri dentro... Fanne non tutte, la metà. Bravissimo. Pronto? Vai. 94.0. Si è rotto già. Vai tranquillo, hai sette blazer o hai tutte le perle? Sono... Allora, no, no, M sposa di due chunk? Di qua? Sì. Uno, due... No, ancora un altro? Sì, sì, c'è qua. Ok, qui, al bordo di questo chunk lo rilanci. Era 94.0 adesso, eh? Guarda. 94. Quindi ha tipo mille blocchi. Ok, quindi tiro dritto. Sì, per tanti blocchi anche. Sì, sì, ce la può fare a far PB, ragazzi, certo. Perché comunque, entro otto minuti trova la Stronghold. Cioè, entro otto minuti nel land. Ha detto tutto, ora succede l'inferro. No, dai, bro. Ora succede l'inferro. Mia, chi ha detto a PB, ho detto, vabbè, vabbè. Può essere che dai, almeno muoci nel land. Ora so che non ci arriverò mai. La cosa è, non si devono rompere gli occhi. Perché hai detto pure questo? No, eh, non si rompere. Sappiamo già come finirà, sappiamo già come finirà. Ok, puoi rilanciare sicuramente l'occhio. Lancialo sopra un alb... Ok, vabbè, vai. 90, ok. 90 e mezzo. Si è rotto pure questo. Vai tranquillo, non se ne rompono più. La cosa è, non si devono rompere gli occhi. La Stronghold ha 40.000 blocchi. C'è il mare, c'è il mare. Vai, easy mare, easy mare. No, 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 no. Dei portarti circa X a 3.000. A 3.000. Ok, vai, no. Ma, 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 ma. A parte che ha già cambiato anche di 3-4 gradi, quindi ci sei vicino, guarda il lato positivo, ora, non toccare più il mouse. Mi sto fermo così. Il lato positivo. No, vabbè, il mouse puoi toccarlo, ma non toccare più a... Il lato positivo è che tu, molto probabilmente, la trovi sotto terra. Ok. Cioè, sotto l'acqua. Ah, ok, infatti stavo dicendo, perché positivo sotto terra? Cioè, la dovresti vedere, a meno che non sia tutta sotto la ghiaia, ma... Ok. Ok, F3 più G. Ok, ora, vai avanti di due chunk, supera questo. Questo qui è il secondo, no, è il secondo il prossimo. Ok. A destra, ora a destra, vai a destra. Ok, lancialo qui, lancialo qui. Ok, perfetto, quel chunk lì. È questo. Sì, 4-4 qui. Perfetto, e tutti gli occhi per entrare. Te l'ho detto, 8 minuti e trovi la stronghold, 8 minuti proprio. Piccolissima, piccolissima. Di qua, di qua. E sopra o centrale? Uno, due... No, M, perché l'ha aperta? Ok, qui. Ok. Tutti tranne una, eh, devi... Se io ho... Ok. Una blaze rod. Ok, bravissima. Ho stiliano in mano al massimo. Per la... Vuoi fare quello veloce o lento? Decidi te. Ho una perda. Vuoi fare quello lento. Ok. Cioè, per una cosa safe, come mi dicevi te, no? Mhm. Decidi te. Non davvero, non ascoltarmi. Se lo vuoi fare veloce, ti metti a sinistra. Se lo vuoi fare lento, lo metti lì. Quello lento è più safe. Tu mi hai guardato, eh, voglio essere sicuro. Facciamo quello più safe, dai. Sta per scendere il drago, eh. Quindi preparati. Ok. Vuoi alzati i blocchi, eh, me? Guarda il drago. Oh, c***o. No, sinistra, sinistra, bravissima. No? Il blocchetto arriva adesso, e boom! BAM! GG a me. GG. GG, GG, bravo, 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 bravo. Pulitissimo! Bravissimo. Pulitissimo! L'ho pure ripreso. Bravissimo, bro. A me segna 30-30. A me 30 e 25, con l'ingame time. Ma me lo segna adesso, giusto? Sì, ti segna in game time 30 e 25. 30 e 25. Ah, è un nuovo PB. Pulito! Pulito! Bravissimo, mate. Davvero, soddisfatto. Mamma mia! La mia! Ciao!